Come diventare la versione migliore di te stessa in 6 mesi? Questo è quello che inconsciamente ho fatto io ed ha funzionato. Ho perso 10 kg, non mi importa più del parere delle persone, ho iniziato a praticare un po' di sport e ho fatto uno switch di mindset. Iniziamo! Questo percorso verrà in 6 mesi. Ogni mese vi concentrerebbe su qualcosa di piccolo ma fondamentale. Piccole abitudini. Mese 1. Routine realistica. Prima parte è creare una routine realistica. E una nuova abitudine per crearla dovete praticarla tutti i giorni. Dovete essere costanti. Parte 1 e parte 2 abbiamo. Parte 1. Creare una routine per il giorno e per la sera. Può essere per esempio che bevete il caffè, vi lavate i denti, fate la doccia oppure può essere semplicemente una skin care. Qualcosa che vi alzate fate quello. Avete una lista di cose da fare prima di iniziare la giornata. Ecco, e prima di finirla. Parte 2. Create una routine egoista da egoisti per la domenica. Ovvero la domenica la prima cosa a cui dovete pensare è voi stessi. E' il vostro giorno per prendervi cura di voi stessi. Quindi dovete fare di più rispetto a quello che fate tutti i giorni. Quindi magari il giorno in cui vi fate la maschera ai capelli la tenete su. Oppure fate una vasca con sale minerali. Oppure vi fate lo scrub. Vi depilate. Tutte queste cose qua. Passiamo al secondo mese. Dobbiamo ottimizzare l'organizzazione. Rispettate i mesi, ve lo giuro. Rispettate i mesi. Vedrete, poi mi riscriverete. Organizzate ed ottimizzate il vostro spazio. Partite dalla camera da letto e dalla vostra scrivania. Quindi dove lavorate. Devono essere dei luoghi che vi danno ispirazione. La camera quindi deve essere il luogo in cui vi rilassate. La scrivania deve essere il luogo che vi ispira. Il disordine rappresenta la vostra mente. Ricordatevelo. Parte 2. Impara a rimanere organizzata. Non che ogni settimana devi riorganizzare tutto. Quindi prendi una cosa, la rimetti a posto. In questa parte 2 concentratevi sulla cucina e sul resto degli spazi. Se vivete da sole. Per i più piccolini invece il primo punto. Quindi organizzate i vostri spazi. Ed il secondo, ovvero imparate a mantenere i vostri spazi ordinati. Terzo mese. Organizzate i pasti e iniziate a muovervi. Questo deve essere mindful. Un qualcosa che vi faccia rilassare la mente. Per esempio yoga. Pilates. Camminare o andare a correre ascoltando la musica. Quello che vi piace ma dovete muovervi. Infatti questo è il punto 2. Trova la tua tipologia di esercizio preferito. Il punto 1 invece. Per le più grandi. Prendi la preparazione dei pasti semplice. Non che ogni volta ci viene il panico che dobbiamo cucinare. Non sappiamo cosa cucinare. Semplice. Piatti semplici. E se iniziate a cucinare da sole. Vi garantisco che ottenete i risultati se volete dimagrire. Perché è difficile dimagrire quando cucinano gli altri. Ma quando dovete cucinare voi per voi stesse. Vedete che dimagrite. Parti 2. Grazie a tutti.